Ha segnato nel bene di lavorando questa partita, raccontaci i gol, come li hai vissuti dal campo? No, niente, visto che mercoledì avevamo fatto un'ottima prestazione col Gubbio e non eravamo riusciti a concretizzare le occasioni che avevamo create, oggi per fortuna il suo primo gol mi è andato anche bene perché il quartiere l'ha respinta di corta e io ero tutto solo e per fortuna ho fatto i gol. E il secondo sono stati bravi i miei compagni che Riccardo si è trovato davanti alla porta, mi ha appoggiato e io tutto questo col portiere ho fatto qua. Quindi sono molto contento soprattutto per la vittoria che ti dà morale perché siamo un'ottima squadra e domenica vogliamo cercare di vincere ancora perché vincere aiuta a vincere. Il mister ti dà fiducia e quindi tu hai magari ancora più fiducia nelle tue possibilità. Certo, per fortuna il mister mi ha dato l'opportunità di giocare visto che il mercoledì mi aveva fatto giocare e oggi mi ha fatto giocare quindi sono molto contento infatti sono andato ad abbracciarlo perché insomma è lui che fa le scelte quindi se non mi faceva giocare magari non facevo gol. Grazie.